Attenzione, scatta, scatta Pantani, scusa scusa, scatto di Pantani, testa a testa, Pantani-Tonkov, è il testa a testa finale, Pantani-Tonkov, si decide il Giro d'Italia. Pantani-Tonkov prontissimo nella scia di Pantani, un Tonkov che non digerisce molto bene gli scatti, l'abbiamo visto anche nella salita di Piancavallo, subito pronto allo scatto di Pantani, poi in una leggera difficoltà. Adesso è stato brillantissimo, non ha esitato un attimo, si è portato subito nella scia di Marco Pantani, è uno spettacolo, vedete proprio Cepe Gonzales a 10 metri, ma sono i primi due che si stanno giocando questo Giro d'Italia. Attenzione, attenzione, c'è un nuovo attacco di Pantani, ma Tonkov si riporta prontamente nella scia del Romagnolo, forse ce la fa, attenzione, attenzione, è il momento decisivo, Pantani scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo scatto è stato decisivo. Eccoci con Pantani, ormai sul rettilineo finale per questo applauso, questo san da parte di tutti i tifosi. Ecco la polizia stradale, perfetta staffetta anche quest'anno del Giro d'Italia, giunto all'ottantunesima edizione. Un clacson che apre la strada, Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo.